La patologia borderline è un disturbo molto diffuso fra i giovani. Molte borderline, soprattutto ragazze, si tagliano o hanno manifestazioni emotive non controllate. Mi rendo conto che mostrare immagini del genere è sempre rischioso, non solo nel mio video, ma vista la società e i tempi che corrono è questo il linguaggio delle immagini al quale siamo abituati. Io credo che il messaggio della canzone sia molto chiaro. Quello di non farsi sovraffare dalla vergogna e di non restare in silenzio e farsi aiutare. Farsi aiutare da specialisti, dalla famiglia e dagli amici, perché è un problema grosso e se ne esce solo con l'aiuto degli altri, non da soli. Dal mio punto di vista non ho vissuto questa cosa in prima persona, ma ho provato ad avvicinarmi a questo mondo a mio modo, inventando una storia. Sarebbe un sogno per me se anche un solo ragazzo o una ragazza in questa canzone riuscisse a riconoscersi e a trovare un'energia nuova per guardarsi dentro e vedere quella parte di sé forte e bella che fino a ieri era l'unico a non vedere.